Avrebbe compiuto 92 anni l'8 febbraio, Monsignor Oscar Rizzato si è fermato un po' prima, si è spento all'ospedale di Padova colpito dal coronavirus contro il quale lottava da due settimane. Nato e cresciuto a San Giorgio delle Pertiche, Monsignor Oscar Rizzato è stato il mosiniere di Papa Giovanni Paolo II che lo aveva voluto vescovo e poi di Papa Benedetto XVI. Ad Arsego, la parrocchia dove era cresciuta accanto al parroco Don Bruno Cremonese e alla Diocesi di Padova, Monsignor Oscar Rizzato era rimasto legatissimo nonostante l'importante incarico in Vaticano. Ad Arsego sarà il vescovo di Padova Claudio Cipolla a celebrare il suo funerale sabato mattina alle 10. Le spoglie mortali di Oscar Rizzato riposeranno nel cimitero della sua comunità d'origine accanto alla tomba dell'amato parroco Don Bruno Cremonese.